Ben trovati a tutti al nostro momento di preghiera ormai usuale delle ore 20 con la decina del rosario per le nostre intenzioni di preghiera. Come sempre vi ricordo di scrivere nei commenti sia in diretta a questo video che anche nei commenti sotto questo video quando sarà salvato le vostre intenzioni di preghiera. Io le porterò sull'altare di Dio nelle messe che celebro con la mia comunità e vi chiedo anche di pregare gli uni per gli altri di una preghiera che è il fondamento del nostro battesimo e del nostro essere cristiani con l'unione con Dio che però ci rende anche davvero chiesa uniti gli uni con gli altri. Detto questo ci mettiamo in un attimo di silenzio e cominceremo la decina del rosario insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Dal Vangelo di Luca l'angelo entrò da lei e le disse ti saluto piena di grazia il Signore è con te. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio re sempre nei secoli dei secoli. Amen. Maria regina della pace prega per noi e per il mondo intero. Salve o Regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine Maria. E preghiamo secondo le intenzioni del sommo pontefice per l'acquisto delle indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio che sei il mio custode illumina, custodisci e regge e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E preghiamo come sempre anche per le anime di tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo, donà loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, donà loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo concedi ai tuoi fedeli, o Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. E al termine del nostro momento di preghiera, breve ma intenso, chiediamo come sempre la benedizione di Dio su ognuno di noi, sulle nostre famiglie, su tutte le persone che soffrono nel corpo e nello spirito. Chiediamo che Dio benedica il mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E al termine, come sempre, del nostro momento di preghiera, ringrazio ognuno di voi che siete stati qui e avete pregato insieme, condividendo appunto questa preghiera che diventa comunione e che ci rende davvero Chiesa, uniti a nostro Signore Gesù Cristo. Ringrazio anche tutte le persone che vedranno questo video dopo e quindi pregheranno insieme con noi, anche se indifferita, ma il Signore non si formalizzerà sui tempi e sui modi. L'importante è che riusciamo a pregare insieme, uniti come Chiesa. Vi ricordo, come sempre, che oltre ai commenti che avete scritto durante la premiere che rimangono salvati e che leggerò appunto per poter portare di fronte a Dio le vostre intenzioni. Potete scrivere sempre le vostre intenzioni anche nei commenti a questo video una volta che sarà salvato. Vi chiedo davvero di pregare come sempre, uniti come Chiesa, gli uni per le intenzioni degli altri e il Signore sa davvero ciò che è meglio per la vita di ognuno di noi. Quindi grazie, grazie davvero. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, come sempre. Ogni sera, nessuna esclusa o in diretta, o se non ce la faccio in diretta, registrandola prima, anche se sapete che preferisco farlo in diretta per interagire con voi, alle ore 20, la decina del Rosario insieme, per le nostre intenzioni di preghiera. Questo appuntamento sono ormai tre mesi e mezzo, quattro che ha cominciato, tra tutto, e non l'abbiamo praticamente mai saltato, tranne una volta perché non andava la connessione e non lo sapevo e non ho fatto in tempo a registrarlo. Quindi quell'appuntamento lo trovate sempre. Per essere sicuri di non perdervelo, potete, come sempre, iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da essere avvisati quando usciranno nuovi video o quando cominciano appunto le dirette avvisati di prima, chiaramente non costa nulla. E vi ricordo, come sembra, anche questa cosa, anche se mi spiace perché mi sembra tempo buttato, ma non voglio che qualcuno di voi cada in qualche truffa, i miei canali social, tra cui anche appunto il canale YouTube, che si chiama Prego e sono felice, e che viene identificato in modo univoco da YouTube con la chiocciola Don Davide Tononi, è stato copiato. Quindi qualsiasi annuncio vi venga fatta, qualsiasi risposta vi venga fatta ai vostri commenti, sia su questo canale che su altri, che magari vi viene fatta da un canale che si chiama Prego e sono felice, che ha la stessa immagine, lo stesso banner, e cercate di aprire sempre il canale e vedete se come nome ha chiocciola Don Davide Tononi. E in qualsiasi caso non vi chiederò mai dei soldi, né dal vivo né sui social, quindi normalmente i canali fatti per truffare chiedono un contributo. Se trovate un canale a mio nome, anche questo nome, ma magari è un canale copiato oppure clonato, e vi dovesse chiedere dei soldi, sappiate che comunque non sono io, è un fake. Ve lo dico perché mi spiace che succeda, ma mi spiacerebbe ancora di più che qualcuno di voi venisse truffato. Quindi sappiatelo, se qualcuno a nome mio vi chiede dei soldi, non sono io. Ve lo ripeterò perché l'ho ritrovato un'altra volta, nonostante ho bloccato, nonostante ho avvisato YouTube tramite l'assistenza, questi canali possono rinascere. Non fatevi fregare, io non vi chiederò dei soldi mai, quello è poco mai sicuro, quindi qualsiasi canale a nome mio vi chieda dei soldi, e dei contributi non sono comunque io. Grazie a tutti, vi auguro davvero una felice e una santa serata. Ci vediamo domani, ore 20, sempre con la decina del rosario, per le nostre intenzioni di preghiera. Felice vita, gente!